Ciao a tutti, come affrontare il ricatto emotivo? Riconoscerlo, reagire e uscirne in sei semplici passaggi. In questo video voglio spiegarti come risolvere, come riconoscere e come uscire fuori da una situazione di ricatto emotivo in sei semplici passaggi. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base e connezione mirata, abbonamento top, connezione mirata e videoregistrazione e seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E veniamo al tema. Allora, ti sei mai trovata in una situazione di ricatto emotivo? Che cosa pensi che sia il ricatto emotivo? È una forma di manipolazione che comunque può essere devastante per chiunque sia la vittima, una vittima diciamo volontaria, tra virgolette, e quindi se ne può uscire. Ti aiuterò a scoprire quali sono i segnali per uscire fuori da questo ricatto emotivo. Ovviamente il ricatto emotivo sfrutta i punti deboli per ottenere contro la tua volontà delle cose. Qualcosa, diciamo, chi ti manipola vuole ottenere delle cose contro, andando contro quella che è la tua volontà. Il ricatto emotivo riguarda le relazioni sentimentali, ma non soltanto le relazioni sentimentali. Può riguardare rapporti di amicizia, familiari, con i superiori, nel lavoro, eccetera. Da un questo punto di vista, quindi mutatis mutandis, ogni situazione può essere in qualche modo, può essere in qualche modo, per così dire, superata. E farò il focus sul ricatto emotivo nelle relazioni sentimentali affettive, però poi mutatis mutandis può essere trasferito in qualunque situazione. Allora, il ricatto emotivo, da un punto di vista sentimentale affettivo, può essere conscio o inconscio, consapevole o inconsapevole. Quando è consapevole è chiaramente allo scopo di manipolare l'altro in modo coercitivo. Quando è inconsapevole è una comunicazione manipolativa analogica e viene utilizzata associandola a una sensazione di disagio. Il ricatto logico, quindi il ricatto emotivo consapevole, è se non fai questo o se fai questo ti lascio. Se non fai come ti dico, farò quest'altro, ti lascerò, ti rifiuto, me ne vado. Quindi è un qualcosa di palese, formulato palesemente. Se mi lasci mi ammazzo. È un'altra forma di ricatto palese, coercitiva. Diciamo, perché fa leva su qualcosa che a livello logico tu riconosci come negativa per te. Che non vorresti vivere. Allora, nel momento in cui tu riconosci una sorta di ricatto di questo genere, di ricatto emotivo, quindi parliamo di ricatto palese, poi ti dirò come devi reagire, diciamo. Invece il ricatto nascosto è quello che ti genera una sensazione di disagio, no? Ma in realtà non sta dicendo nulla. È la persona che magari fa qualche gesto autolesionista su di sé, che si tagliuzza i polsi, ad esempio. Oppure fa qualcosa leggermente autolesionistico nel, diciamo, verso di te. Cerca di farti vivere qualche senso di colpa. Cioè, magari pensi che tu lo vuoi lasciare e appunto si tagliuzza i polsi. Oppure piange. Oppure simula. Tu vorresti uscire con i tuoi amici e arrivi a casa e la trovi che ha simulato o sta simulando un attacco di ansia, un attacco di qualcosa, un mal di pancia, non lo so, qualunque cosa sia. Non ti sta dicendo niente. Però, diciamo, in qualche modo ti ricatta, no? Ti impedisce di fare qualcosa e quindi entri in uno stato di disagio, no? Ti sentirei a disagio uscendo te ne per i fatti tuoi. Allora, come reagire al ricatto emotivo? Beh, intanto devi sapere che il tuo partner ti sta ricattando. Non è sempre facile essere sicuri che il partner ti sta ricattando emotivamente perché magari ci sono dei sentimenti verso il partner che offuscano. Potresti essere molto innamorato o innamorata di lui o di lei, fidarti e quindi non pensare che ti voglia ricattare. Però bisogna osservare proprio i comportamenti. Quindi se tu noti un comportamento che non va, da qualche parte non va, prova a osservare meglio. Prova a osservare meglio quello che ti propone il tuo partner. Quindi la prima cosa è la reazione e l'osservazione. Come comunica con te il tuo partner? Osserva. Ecco, questo che devi imparare a fare è osservare. Ti dice che sei egoista, ti dice che non vali niente, ti cerca di denigrare. Osserva quello che ti dice e analizza. Sono davvero egoista? No, perché ho fatto questo, questo e quest'altro per lei, per lui molte volte. È vero che non valgo niente? No, perché ho fatto un sacco di cose per cui valgo. Ti dice sei stupido. È vero che sono stupido? No, perché è vero che non so fare niente? No. E poi specifica quello che sai fare. Quindi vai a confutare a livello logico quello che lui ti dice. Se però c'è qualcosa da confutare, e giustamente c'è, se uno ti denigra, c'è sempre qualcosa da confutare, si vede che ti sta manipolando. Quindi sei sotto oggetto di un ricatto emotivo. E allora devi effettuare una contramanipolazione. Che cos'è la contramanipolazione? Beh, la contramanipolazione come primo punto prevede di rispondere a questa persona. Guarda, ho scontato quello che mi hai detto, ma non ho assolutamente nulla da rimproverarmi. Per cui io continuo a fare quello che mi pare. Se per te non va bene, se lui ti dice una cosa, tu gli dirai, guarda, quello che stai dicendo è un problema tuo. A me assolutamente non mi riguarda. E beh, io la penso diversamente da te. Rispetto alla tua idea, però ti chiedo di rispettare la mia. Quindi utilizzando queste modalità puoi tranquillamente affrontare, tra virgolette, il tuo partner. E a quel punto lì osserva il, diciamo, osserva come si comportano i tuoi confronti. Se sviluppa rabbia, se sviluppa, oppure se nello stesso tempo si chiude nei tuoi confronti, non ti risponde, si allontana. Beh, significa che ti stava manipolando e che vuole continuare a manipolarti. Potrebbe addirittura fare delle sceneggiate e dire, ma se fai così io mi ammazzo. E tu diri, guarda, lo fai pure, sei libero di farlo o sei libera di farlo. Se ti vuoi ammazzare è un problema tuo, non è un problema mio. Tu continua sempre a martellare. Questa è una frase che funziona molto bene. Guarda, è un tuo problema, non è un problema mio. Risolvitelo. Io continuo a fare quello che mi piace perché penso che sia giusto fare questo. Quindi la contramanipolazione di fatto è una presa di consapevolezza e una risposta. E se ti dice, ma sto male, tu dai una risposta. Guarda, ti chiamo al pronto soccorso, fatti venire a prendere e vai da qualche parte. E vai al pronto soccorso. Ti chiamano medico, ti chiamano guardia medica, arrangati. Insomma, la cosa migliore che devi fare quando noti che ci sono forme di manipolazione è dire, arrangati, è un problema tuo. Non mi interessa, non mi riguarda. Ognuno deve risolversi le sue questioni. Ecco, sembrano frasi ciniche, però devi imparare a dirle. Queste ti faranno molto bene perché imparare a dire queste frasi ti consentirà di, acquisire una tua autostima. E poi l'ultimo consiglio è quello di chiudere la relazione con questa persona. Perché tenersi un partner manipolativo è come, insomma, tenersi un cancro. Se si può operare ed eliminare è meglio. Perché tenersi un cancro? Non c'è nessun motivo. Perché tenersi un partner manipolativo? Non c'è nessun motivo. Lascialo andare per la sua strada e vedrai che starai molto meglio. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramaschi. Iscriviti al canale. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti.